La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon sabato e bentrovati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa qui su 1TV. Sfogliamo insieme le pagine dei principali quotidiani in edicola questa mattina, cominciamo con il mattino nazionale, andiamo subito a leggere il titolo di apertura. Dunque, Biden, l'Italia è un modello, il presidente usa elogia Draghi, le sue politiche esempio di democrazia contro i regimi, oggi il G20, apertura degli Stati Uniti alla difesa dell'Unione Europea, clima intesa lontana. Di taglio centrale vediamo anche la fotonotizia sullo stesso argomento, le first lady e la diplomazia del tè. Ancora di taglio centrale abbiamo Salerno, Cop e Voti. Nino Savastano resta ai domiciliari. Il ricorso dell'ex assessore bocciato dai giudici, il dirigente scarcerato, ho fatto io le prime gare. Richel di I Novax si illudono di essere salvati da chi è vaccinato. Ci spostiamo di taglio alto. I due bravi ragazzi scambiati per ladri e giustiziati. La follia ad Ercolano, camionista spara sei colpi, volti sfigurati. E ancora la tragedia di Posillipo, l'ex psicologo rapinatore seriale per pagarsi il vizio della cocaina. Di taglio laterale abbiamo idee e analisi. Il debito buono, la manovra di svolta e il freno ai partiti. Per il punto di Vespa il DL Zan travolto dalla corsa al colle. Di taglio basso invece c'è lo sport. Jomber lo botta, amici contro difesa, gruviera e attacco stellare. Salernitana alla vigilia del derby con il Napoli. Per l'intervista Vignaroli ora si aggrappa alla cabala. Poi prima o poi la capolista dovrà fermarsi. Questi quindi i titoli che troviamo sulla prima del quotidiano il mattino nazionale che lasciamo per proseguire sempre su questo giornale e andare a leggere i titoli che troviamo nelle pagine dedicate al primo piano. Naturalmente si parla degli incontri del G20 a Roma. Quindi gli incontri come dicevamo. Biden elogia Draghi. Fai un gran lavoro, c'è il sì alla difesa dell'Unione Europea. Il capo della Casa Bianca e il Modello Italia dimostra che le democrazie funzionano. Autocritica nel colloquio con Macron, con la Francia siamo stati maldestri. Leggiamo al Quirinale da Mattarella che si congratula per la WebTax, esempio della ritrovata Unità Atlantica. Di taglio basso invece abbiamo il feeling tra Papa e Presidente Cattolico. come ha detto puoi avere la comunione. Le rassicurazioni del Pontefice prima che si pronunci noi vescovi usa, ma non abbiamo parlato di aborto. E poi c'è il box sull'incidente, scontro tra le auto presidenziali. Lasciamo questa pagina, ma proseguiamo sempre sul mattino nazionale. Ci sono ancora le pagine dedicate al primo piano e questa pagina naturalmente prosegue la precedente. Quindi si parlava degli incontri prima del vertice con tutte le foto dei protagonisti. Il titolo invece è Joe, la missione europea per sbloccare le merci. Summit fuori sacco con i leader dell'Unione Europea sulla crisi dell'approvvigionamento. Il Presidente USA chiede aiuto anche per rilanciare il dialogo con l'Iran. Leggiamo anche Sintonia sui temi affrontati, emergenza climatica, diritti umani e aiuti ai paesi poveri contro la pandemia. Di lato poi invece vediamo, come leggevamo anche dall'altra pagina, la foto dell'incontro tra Biden e il Papa. Lasciamo questa pagina, proseguiamo. Siamo ancora sulle prime pagine, quelle dedicate al primo piano del mattino nazionale. In questa pagina si torna a parlare di pandemia, quindi leggiamo il titolo. La lotta alla pandemia, Covid più casi e ricoveri, rischi per l'inverno, l'indice RT sale verso l'uno. L'Istituto Superiore di Sanità avverte possibile una recrudescenza epidemica. Friuli, Marche, Umbria più in difficoltà dopo la terza dose, Green Pass per 12 mesi. Allarme a Trieste, ospedali pieni nella città Novax. Abbiamo poi i dati 0,96, l'RT nazionale è arrivato appunto a 0,96, ma la previsione per la prossima settimana è di 1,14. Ben al di sopra del limite di uno, scusate, considerato il valore critico per una epidemia. 46 invece è l'incidenza, salita appunto a 46, sono su base settimanale il numero di casi ogni 100.000 abitanti. Sopra quota 50 le operazioni di tracciamento diventano complicate. Di taglio basso ci spostiamo in Campania, De Luca, 654 casi in Campania, la situazione è preoccupante. Il governatore, la quinta ondata è alle porte, in inverno vaccino ad addetti a scuole e alla sanità. Così, insomma, ha detto. Proseguiamo, lasciando questa pagina, ci spostiamo sulla prima del mattino di Salerno. Andiamo quindi a leggere qual è il titolo di apertura. Caselli, atti approvati dai politici. Lo schiaffo del riesame a Nino Savastano resta ai domiciliari, riservate le motivazioni. Il comune, quindi la bufera giudiziaria, il dirigente, ambiente, ho fatto io le prime gare, altre verifiche sulle deposizioni di Zoccola. Ancora il comune blindato, le voci, Napoli, vedrete che si smonterà tutto e Tringali riapriremo presto ai cronisti. Di taglio laterale, la violenza, maxirissa nella movida, cerchio chiuso, preso diciottenne. Ci spostiamo di taglio centrale, abbiamo lo sport con la salernitana. Spauracchio o simen, pronta la gabbia, derby a Rechi verso il sold out, vicina quota 18.000. Ancora sempre di taglio centrale, la pandemia alla scuola, contagi in aumento, i presidi, tamponi anche alle superiori. Focolai nell'area sud, allarme a Centola e Eboli, Salerno regge, negativi test salivari al Barra. Il box, l'assistenza, seconda fiammata di fila, 123 positivi, sprint, terze dosi, sono già 12.000. Ci spostiamo di taglio laterale. Lo scenario, lucida artista in naftalina, i commercianti, basta ritardi. E ancora la nuova indagine, blitz della mobile a Palazzo Guerra, bus per gli alunni, la gara nel mirino. Di taglio basso invece abbiamo l'urbanistica, il parco inclusivo dopo i prefabbricati lager a Cava dei Tirreni, un esperimento pioniere in Italia. Lasciamo la prima pagina del mattino di Salerno e ci spostiamo adesso su un altro quotidiano, il quotidiano del sud. Leggiamo cosa ci propone in prima pagina, vediamo il titolo di apertura, anche qui si parla di cop e appalti. La polizia scava al comune, acquisiti ieri delicati atti di una gara relativa al trasporto scolastico. Il riesame non crede a Savastano lasciato ai domiciliari. L'inchiesta si allarga con nuovi filoni su affidamenti sospetti e procedure oscure. Di taglio centrale, come sempre abbiamo la fotonotizia con lo sport, domani Rechi blindato per il match. Contro il Napoli, con l'Antuono, si affida a Diuric e Bonazzoli, infermeria piena. Di taglio laterale, tutte le altre news, sarà Nello Fiore a subentrare alla regione. Poi abbiamo commissione di accesso, tempi lunghi e ancora. Movida violenta rissa di maggio, diciottenne della gang ai domiciliari. Covid record di casi in campagna, 123 i positivi in provincia. Da Eboli invece il tribunale, tradita da Massimo Cariello la funzione pubblica. Ci spostiamo di taglio basso. Abbiamo due box, uno dedicato al ricordo. Galdi, il repubblicano che scalò il regno, era nato a Pellezzano. L'altro box, dedicato invece al cinema, ha linea d'ombra le produzioni made in Salerno. Questi titoli, quindi, che troviamo sul quotidiano del sud di Salerno, che lasciamo, proseguiamo, ci spostiamo sulla prima del quotidiano, la città di Salerno. Anche qui si torna a parlare dell'inchiesta sulle cooperative. Savastano e trasporto scolastico, palazzo assediato dalla procura. Il consigliere regionale resta ai domiciliari. Blitz al comune, gara d'appalto addomesticata. Di taglio laterale, invece, abbiamo verso il derby, quindi si parla di sport. Granata, voglia di colpo grosso contro il Napoli. I tifosi, la carica dei 18.000 sold out alla Rechi. Protagonista, Jomber nel cuore di Mr. Spalletti. Ancora, sempre di taglio laterale, andiamo a leggere. Albanella, maestra positiva e senza vaccino, infettati, otto alunni. Da eboli spari tra pusher, dopo una rissa scatta l'inchiesta. E ancora, da Scafati, nessuno sconto al boss Cesarano resta al 41 bis. Di taglio centrale, ancora due retroscena sull'inchiesta sulle cooperative a Salerno. Zoccola dice, Piccarone, votato per 25 anni, poi l'ho tradito. Il retroscena 2, invece, arriva la mobile e il municipio si svuota subito. Di taglio basso, lo sport. Da Salerno a Battipaglia, e l'ambiase farà l'assessore. La francese affida l'urbanistica, l'ex candidato sindaco. Lasciamo questa pagina, la prima della città di Salerno. Ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano, le cronache. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Aperto un fascicolo dalla procura, De Luca, indagato, è stata fatale l'indicazione di voto a Zoccola, 70% a Savastano, 30% a Piccarone. Si lavora anche sulle proroghe alle Coop, molte durante il sindacato del governatore. Riesame, Savastano resta ai domiciliari respinti, pure i ricorsi dei presidenti. Andiamo adesso a leggere invece i due titoli che troviamo sotto la testata. Devono essere identificati all'ingresso. Tringali vuole schedare i giornalisti. Comune assediato nel Mirino, la Novo Sud. Trasporto scolastico acquisito il bando di gara. Di taglio laterale abbiamo il fatto. Il PD provinciale a congresso, Enzo Luciano, verso la riconferma. E poi abbiamo ancora sempre di taglio laterale. La Cassazione, Cesarano, è ancora pericoloso, deve restare al 41 bis. Ancora, sempre per il fatto, violentò il ragazzo salernitano. Don Livio resta in carcere. Di taglio centrale invece abbiamo lo sport. Ribery sfida in signe, la fantasia al potere. Con l'Antuono per l'attacco lancia Simi, resta la difesa a quattro. Il derby entra nella fase calda. Spalletti invita a non sottovalutare i Granata. E poi abbiamo Donne d'eccellenza a Vira Carbone. Rita De Marinis vince il premio Venere. Questi quindi titoli che troviamo questa mattina sulla prima del quotidiano, le cronache di Salerno, che lasciamo. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con la nostra rassegna stampa e torniamo sulle pagine del mattino di Salerno. Andiamo a leggere gli argomenti che troviamo nella pagina dedicata alla pandemia e alla scuola. Il titolo di apertura è Contagi in aumento, i presidi, tamponi anche alle superiori. Focolai negli istituti della provincia, i casi più critici a Centola e a Eboli. Situazione sotto controllo nel capoluogo, negativi i primi 40 test eseguiti al Barra. Leggiamo anche il presidente Nadeo. Stiamo reggendo ma uno screening sarebbe molto utile. Ancora controlli nell'area del Cilento. Florimonte funziona la rete attivata tra prof e famiglie. Pellegrino, sportelli per aiutare i ragazzi in overbooking. La diffusione del Covid spaventa il mondo della scuola. L'aumento dei contagi negli ultimi giorni mette in allarme i dirigenti scolastici. La situazione è sotto controllo nel capoluogo dove si registrano solo tre casi di studenti in quarantena al liceo Alfano I. Uno studente si è negativizzato al liceo De Sanctis. Mentre è rientrato l'allarme all'Istituto Galileo Galilei dove nelle scorse settimane era finito in quarantena un allievo. Situazione diversa in provincia dove i focolai aumentano. Situazione difficile a Centola e preoccupante a Eboli. Stiamo reggendo ma il periodo è decisivo, analizza Claudio Nadeo, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi. Bisogna adottare tutte le cautele e non abbassare la guardia. Di taglio centrale, la formazione, professione agrotecnico, i nuovi mestieri dell'agricoltura 4.0. Gli studenti del Profagri incontrano docenti e imprenditori. Di taglio basso, fiammata Covid, 123 positivi e 15 ricoveri, sprint, terze dosi, raggiunta quota 12.000. Saggese Tozzi dell'Asla dice crescita moderata ma dobbiamo alzare il livello di immunizzazioni. Un picco ad Atrani. Lasciamo questa pagina ma continuiamo sempre sulle pagine interne del mattino di Salerno e andiamo a vedere le notizie che arrivano dal territorio occidentano, dal Vallo di Diano, dai Picentini e dalla Piana del Sele. In apertura, nodo giunta per Conte, la scelta di Piegari non convince gli alleati. Malumori per il possibile ingresso nello staff dell'ex assessore di Cariello. Si allungano i tempi, sicurezza sindaco dal prefetto. Di taglio centrale da Ponte Cagnano, presidenza del Consiglio, tutto da rifare. Di taglio laterale siamo ancora ad Eboli, scuole, partono i controlli dei vigili. E' iniziato ieri mattina il progetto Scuole Sicure a Eboli, iniziativa voluta dall'ex commissario prefettizio Antonio De Jesu, finanziata dal Ministero degli Interni per reprimere e prevenire episodi di illegalità al ridosso delle scuole superiori. Ancora di taglio centrale siamo sempre ad Eboli, c'è la cronaca, rissa e spari, la pista resa dei conti per la droga. Sparatoria e rissa ad Eboli, terrore in viale Epitaffio. Ieri sera nel parcheggio dinanzi ad un bar dove un gruppo di uomini ha litigato ed è stato esploso anche un colpo di pistola. E' accaduto verso le 19 di ieri e sono state allertate subito le forze dell'Ordine. Ancora di taglio laterale da Sala Consilina abbiamo Avvocati Tanzola, presidente dell'Ordine. Sebastiano Tanzola, il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro, Sala Consilina. L'avvocato originario di Polla succede a Gerardo Cappelli che si è dimesso nei giorni scorsi. Di taglio basso da Agropoli l'ospedale è ancora a mezzo servizio, nuova protesta nel nome di Tommaso. E poi da Novivelia si perde sul Gelbison salvato dai carabinieri. Esce per una passeggiata sul monte Gelbison, non riesce più a rientrare, una telefonata fatta ad un amico fa scattare l'allarme. Brutta avventura due giorni sul sacro monte di Novivelia dove militari della stazione carabinieri Parco di Vallo hanno soccorso un 44enne di cui si erano perse le tracce. Lasciamo questa pagina e con essa anche il mattino di Salerno. Ci spostiamo adesso sul quotidiano del sud di Salerno. Andiamo a leggere anche qui le notizie che arrivano dai comuni a sud della città di Salerno. In questo caso siamo ad Agropoli. Belvedere è scongiurato il rischio privatizzazione. La piazza era occupata da persone e gestita come spazio privato. Domani l'intitolazione pubblica a Luisa San Felice. Arriva ad una conclusione la vicenda della piazzetta. Belvedere ad Agropoli porta di accesso al centro storico. Domenica mattina si terrà l'intitolazione del luogo a Luisa San Felice. Come raccontano Alexandrio Ma, padre e Benedetto Croce, spiega il primo cittadino Adamo Coppola, il nostro castello fu la sua dimora prediletta per diversi anni. Luisa San Felice è per molti anche un simbolo della Repubblica Alba Foriera, delle idee di modernità e memoria storica di quei martiri che furono i pionieri del libero penitenio, sul quale si fondarono le speranze di un vero e proprio rinnovamento sociale e politico dell'Italia. Quindi è per questo che a lei sarà intitolata questa piazza ad Agropoli. Di taglio laterale dai comuni da Eboli, Conte ha visto russo ok alle telecamere e ancora sempre da Eboli per quanto riguarda i comuni decollano le operazioni scuola sicura. Di taglio basso invece, ancora in tema di sicurezza dal Vallo di Diano, un commissariato di polizia nel Vallo, la parola ora passa ai primi cittadini, richiesta inoltrata ai sindaci dell'area da parte del Movimento CMI. Quindi istituire un commissariato di polizia di Stato nel comprensorio del Vallo di Diano per rafforzare e meglio tutelare la sicurezza dei cittadini, delle imprese e delle risorse ambientali e quanto ripropone sul tavolo della discussione politica territoriale il partito di ispirazione meridionalista Confederazione Movimenti Identitari che ha inviato una lettera a tutti i sindaci dei comuni del Vallo di Diano. Ancora di taglio basso, per ultima ora da Eboli abbiamo sparatoria tra gang rivali, bossoli e sangue. Lasciamo questa pagina ma siamo sempre sul quotidiano del sud di Salerno ancora per leggere altre notizie che arrivano sempre dal territorio cilentano e valdianese. In questo caso si parla di malagiustizia, Dorotea dopo il danno la beffa, impossibile il giudizio di secondo grado per la mancata imputazione. I genitori della ragazza invocano da anni l'appello, l'istanza a Mattarella e la scoperta dell'amara verità. La tragedia, tragico impatto nell'auto guidata dall'affidanzato. Una vicenda che ricorderete da Policastro Bussentino. Una battaglia di giustizia che dura dal 13 maggio del 2014 quando i sogni di Maria Dorotea Di Sia, studentessa di Belle Arti originaria di Policastro Bussentino e del Vallo di Diano, si spezzarono a causa di un tremendo incidente stradale che la uccise a soli 25 anni. Il 24 novembre del 2015 fu emessa la sentenza del rito abbreviato nei confronti dell'unico imputato, Pantaleo Daddato, che era alla guida dell'Audi A6SV in cui la Di Sia trovò la morte. Quindi una vicenda di cui ancora si parla. Di taglio basso, ancora in tema di giustizia, Tribunale di Sala Consilina, primi spiragli per la riapertura. Continuano le audizioni dei diversi portatori di interesse. Ascoltato anche l'ex procuratore della Repubblica ed ex numero uno dell'antimafia Franco Roberti. Proseguono le audizioni in Regione Campagna relativi alla proposta di legge per la riapertura della Tribunale di Sala Consilina presentata dal consigliere regionale Corrado Matera. In prima commissione affari generali sono stati ascoltati quali portatori di interesse in videoconferenza. L'euro parlamentare Franco Roberti, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e procuratore nazionale antimafia Ottavio Abbate, già presidente del Tribunale di Sala Consilina e padre Antonio De Luce, Luca, vescovo della Dioce, si dite Giano Policastro. Proseguiamo, lasciamo questa pagina e con essa anche il quotidiano del sud di Salerno. Ci spostiamo adesso sul quotidiano Le Cronache. Leggiamo anche qui varie notizie che arrivano dai comuni salernitani. Siamo ad Agropoli. Movimento 5 Stelle, riaprire subito il pronto soccorso dell'ospedale. La vicepresidente del Consiglio regionale Ciarambino e Cammarano chiedono audizione in commissione sanità. Ha raggiunto già 40.000 firme la petizione lanciata online per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, la cui chiusura ha provocato disagi inaccettabili per i cittadini dei tantissimi comuni limitrofi. Una battaglia che, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti da tempo in Consiglio regionale. Di taglio laterale da Bellizzi, l'impegno della regione per il territorio salernitano, incontro con Andrea Volpe. Di taglio centrale, invece, da Castellabate, salda metà dei debiti con il piano di zona S8. Maurano e Carbutti ora aiuti ai residenti. Il Comune salda il 50% dei debiti pregressi con il piano di zona S8 e chiede allo stesso tempo di aiutare i residenti attraverso un progetto a segno di cura, finora esclusi da qualsiasi forma di aiuto. E' quanto messo in atto dall'amministrazione comunale di Castellabate a seguito dell'incontro che il vice sindaco Luigi Maurano e Marianna Carbutti hanno avuto con il responsabile del piano. Di taglio laterale, anche qui si parla del Tribunale di Sala Consilina, battaglia difficile. Il Consiglio regionale della Campania sono stati ascoltati dalla prima commissione permanente per gli affari regionali presieduta da Giuseppe Sommese, Franco Roberti, Ottavio Abbate e sua eccellenza Monsignor Antonio De Luca. C'erano anche Geppino D'Amico, giornalista storico del territorio e l'avvocato Angelo Paladino, presidente dell'Associazione dei giuristi cattolici. Di taglio basso, da Montecorvino Pugliano, le problematiche del territorio sono lievitate. Cerami di La Pugliano che vogliamo torna in piazza per incontrare i cittadini. Il 28 di ottobre il Movimento Civico La Pugliano che vogliamo è tornato in piazza con un incontro pubblico nella frazione di Pagliarone. Lasciamo questa pagina, siamo ancora sul quotidiano, le cronache di Salerno. Andiamo a leggere un'altra pagina dedicata alle notizie che arrivano dal nostro territorio. In questo caso siamo ad Eboli e si parla di cronaca, spaccio e caporalato, due emergenze. Alla riunione erano presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza e il comandante provinciale dei Carabinieri. I due argomenti sono stati affrontati nel corso dell'incontro tra il sindaco e il prefetto. Incontro istituzionale in prefettura tra il primo cittadino di Eboli, Mario Conte, e il prefetto di Salerno, Francesco Russo. Alla riunione, che non è stata solo formale ma organizzativa, erano presenti il colonnello De Luca, comandante provinciale della Guardia di Finanza e il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti. Ancora di taglio centrale, ci spostiamo ad Agropoli. Adesione all'albo comunale delle associazioni, pubblicato l'avviso da parte dell'amministrazione. Di taglio basso, per il fatto, anche qui si parla della morte di Dorotea Di Sia, pena ridotta per il conducente dell'auto, la 25enne salernitana originaria del Vallo di Diano. E poi da Eboli, indagini in corso, rissa degenera a colpi di pistola. Quindi rissa degenera con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco ad Eboli è accaduto nel tardo pomeriggio davanti ad un bar in località Epitafio. Sul posto, l'intervento dei Carabinieri della locale compagnia agli ordini del Capitano Emanuele Tanzigli e della Polizia Municipale diretta dal Tenente Colonnello Sigismondo Lettieri. Lasciamo questa pagina del quotidiano Le Cronache di Salerno e con questo è tutto per l'appuntamento di questa mattina con la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito, vi invito a continuare a restare con noi augurandovi un'ottima giornata.